Allora ve l'ho già detto mille volte, non mi interessa. Sì, so che i numeri sono dalla vostra parte, so che è uno dei canali con più follower, che ha un sacco di seguaci, ma non esiste. La serie Don Masseo non la facciamo. Grazie e arrivederci. Avanti. Dai. Vinta, forza. Dai, seduto. Su, sediti. Siediti. Ok. Ricordami lui che cos'è? Canale Pampers. Prova grave mi sembra. Ban 30 giorni. Odio, razzismo e violenza. Uh, mamma mia. Sapete perché vi ho bannato? Perché abbiamo detto una parola razzista. Avete detto negro? No, abbiamo detto egro. Uh, che razzista egro. Ma in realtà è un po' meno. Allora facciamo così, io vi dimezzo il ban, se mi dimostri che avete capito le linee guida. Allora non possiamo dire la parola con la n, chiaramente. Non possiamo dire la parola con la n senza la n. Giusto. Perché è offensivo. Offensivo, mamma mia. Però si può bestemmiare. Certo. Quindi egro no, ma porco c***o sì. Esatto. Ah, e porca m***a. Anche. Porca m***a in c***a. Un cane le m***a che si chiama Gesù. Beh, venga. Ma egro. No. Ma la bestemmia offensiva offende Dio. Oddio sta su Facebook. E poi ho capito che non dobbiamo far vedere i capezzoli. Bravo. Perché è diseducativo. No, lì è una roba mia. Però non dobbiamo essere diseducativi. Bravo. Però possiamo insultare le forze dell'ordine. Certo. Fare falsa informazione. Genio. Insultare le istituzioni tipo il Papa. Volentieri. Ma egro. No. Poi non dobbiamo essere un cattivo esempio. Bravo. Ma possiamo fumare. Sì. E farci le canne. E bere. Tutto. Birra. Sì. Vodka. Sì. Assenzio. Sì. Ma egro. No. E' un Montenegro. Non ho scoperto il bug. Montenegro non sta su sepposito. Va bene. Va bene. Vi dimezzo il ban. Dimostratemi però che avete capito. Grazie. Portali via Alfred. Speriamo non si accorgano di pata negra. Siamo liberi. Ci hanno riaperto il canale. Andate a iscrivervi. C'è il link in descrizione. Solo contenuti per bambini. Non è vero? Sì. Pensi di meravigli. Tra l'altro facciamo la maratona di Sanremo. Da mercoledì a sabato. Ottanta ore di diretta. Senza mangiare. Senza dormire. Ah. 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 Ah.